Oggi non era l'ultimo giorno di attività solo per l'impianto di trattamento dei rifiuti e dell'annessa di scarica di Cava dei Modicani, ma anche per l'attività dei commissari straordinari dei liberi consorsi dei comuni, ex province e delle città metropolitane. In effetti, quando il Governo regionale scrisse questa data, 31 luglio, confidava sulle elezioni di giugno per l'elezione dei presidenti e dei consigli dell'ente e quindi sul fatto che già prima della data di oggi i nuovi vertici eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali si fossero insediati. Il colpo di mano in aula sul rinvio delle elezioni e lo slittamento ad ottobre ha reso per l'ennesima volta la proroga al 31 luglio, insufficiente a coprire la lunga tradizione che da oltre sette anni vede le ex province gestite da un semplice funzionario regionale in funzione monocratica. Anche in questo caso, emergenza dell'ultima ora e firma sui decreti appena in tempo per non lasciare gli enti senza guida. In una fase storica peraltro difficile, non è stato possibile approvare i bilanci per l'impossibilità di chiudere i conti in pareggio. Salvatore Piazza, che come gli altri dovrà gestire l'ente fino al passaggio delle consegne ai nuovi presidenti, sul bilancio un impegno lo assume. Prima di andar via comunque lo approverò. Posso sicuramente garantire che metteremo in sicurezza il bilancio della provincia perché abbiamo già avuto una riunione a Palermo con la quale l'assessore agli enti locali e la Grasso ci ha garantito che ci sarà un riparto di 100 milioni di euro per tutte le province. Noi ci batteremo naturalmente in una riunione che è già convocata per il prossimo 6 agosto, ci batteremo per avere quanto più possibile per la nostra provincia, alla quale teniamo moltissimo.